Pronto, pizzeria? Pronto, pizzeria, grande piramide d'Egitto. Cosa vuole? Sì, buonasera, dovrei ordinare due pizze. Due pizze? Come pizze? Che cosa fa? Che specialità? Ci abbiamo pizze tutto, pizze bruciutto, pizze bici, pizze bollo, pizze della casa. Quale pizze? Pizza col salame. Pizza salame scrive? Pizza salame. Salame come? Beccanti. Come? Beccanti. Come? Salame beccanti. Ah, beccante, sì. Eh, bene, beccanti. E fitinderi? Eh? Fitinderi? Cosa? Borco il madonna, fitinderi, capisci italiano? Ah, bitti. Iscriviti, go per chi? Grazie a tutti.